iniziamo la nostra pratica con il pre flow con un esercizio che definirei classico ma che ci permette di approfondire molti aspetti analizzati nelle lezioni precedenti in questo e nei prossimi video andremo a realizzare della pioggia con relativi splash su una superficie partendo da un sistema standard ed analizzando il tutto o quasi come se fosse la prima volta che apriamo modulo particles vi ricordo che nel mio caso l'unità di misura del sistema è impostata sui centimetri ma che visivamente è impostata su generica in modo tale che il mio valore 1 sia valido anche per voi senza creare troppi fraintendimenti in fase di lavorazione fate sempre molta attenzione all'unità che state utilizzando poiché scale troppo grandi possono andare ad incidere negativamente sul vostro risultato finale ad ogni modo cercherò nel corso dei vari video di specificare tali unità laddove ritengo fondamentale iniziamo subito con una scena vuota e creiamo un p flow source variamo le sue dimensioni a piacere e spostiamolo verso l'alto se premiamo play o scorriamo sulla timeline notiamo che abbiamo già delle particles presenti in scena con già degli attributi assegnati che andremo ad eliminare o variare nel corso dell'esercizio quindi accediamo al particle view tramite il pulsante nel pannello modifier oppure tramite seida tastiera notiamo come sia già presente un flow con un inizio all'event con i vari operator ma possiamo eliminare rotation e shape poiché al momento non sono di nostro interesse variamo anche per maggiore chiarezza visiva la visualizzazione del display da tricks a lines bene questo è il risultato che avremo in viewport notiamo che dopo il frame 30 non vi è più l'emissione di particles quindi possiamo prolungarla per quanto necessario dal birth ad esempio portiamola a 100 o 200 preferisco sempre tenerla al di sopra delle mie attuali timeline in modo tale che non si verifichi mai un'assenza di particles in scena volendo simulare la pioggia andiamo a variare anche la quantità delle particles da amount a rate con un valore a piacere ad esempio 200 o 300 avendo il position icon nel flow le particles vengono generate in base al volume o quindi alla superficie dell'icona presenti in scena volendo potete variarlo scegliendo un'altra tipologia ma per l'effetto che vogliamo andare a ricreare surface va più che bene possiamo invece variare la velocità quindi dall'operator speed andiamo ad impostare valori a piacere come per esempio 300 e 150 in questo modo avremo la possibilità di avere una leggera variazione nella fase di discesa dove alcune particles saranno più veloci di altre il tutto in maniera casuale la discesa appare molto uniforme ed è raro in natura assistere ad un evento del genere solitamente quando piove entrano in gioco anche altri fattori come la resistenza dell'aria la temperatura il vento eccetera ovviamente noi non possiamo ricrearli tutti ma possiamo aggiungere sicuramente una forza wind quindi creiamola in viewport e variamo alcuni parametri a piacere ed animiamola leggermente vi ricordo che il valore 1 del strength sta ad indicare una unità secondo quindi se stiamo lavorando con una scena con la scala impostata in metri 1 sarà uguale ad un metro al secondo ovviamente è difficile andare a ricreare esattamente la stessa velocità di un vento il nostro intento è quello di ottenere una leggera variazione e quindi possiamo assegnare dei valori a piacere anche molto piccoli anche perché tali valori andranno a sommarsi all'operatore speed presente nel nostro flow in alcuni casi si potrebbe utilizzare anche solo una forza wind o gravity per assegnare una velocità alle particles ma tale operazione rende impossibile il controllo della variazione nel tempo della stessa e quindi preferisco sempre utilizzare tali space warps come aggiuntivi e mai come funzioni principali per il nostro moto nel tempo delle particles aggiungiamo un operatore force ed associamoci il nostro wind bene verifichiamo l'animazione adesso dobbiamo aggiungere un elemento che collida con le particles e che permetta di generarne delle nuove simulando i nostri splash quindi creiamo un deflettore ed associamolo nel flow tramite un test collision spawn non utilizzo un semplice test collision poiché esso è povero di parametri ed in questo caso non fa il caso nostro volendo possiamo alzare il valore di rimbalzo il bounced del nostro deflector se verifichiamo l'animazione notiamo che le particelle al contatto con il deflector rimbalzano diventando incontrollabili questo perché non abbiamo nessun secondary event che descriva il comportamento delle stesse dopo l'impatto quindi creiamo un secondary event con al suo interno i seguenti operator speed il quale servirà a definire la velocità delle particelle in fase di rimbalzo ed inoltre anche la direzione infatti se andiamo a variarla da along icon row quindi in base alla direzione della freccia dell'icona con random 3d avremo un comportamento differente volendo abbiamo a disposizione anche random 3d horizontal il quale permette di ricreare un effetto meno torrenziale e di simulare ancora meglio l'effetto di goccia che si infrange ad esempio su una superficie come l'acqua una pozzangra per intenderci per ora però preferisco utilizzare e ricreare un effetto molto più violento se mi passate il termine con degli splash più forti e quindi lasciamo pure l'opzione random 3d force al quale sarà collegato il nostro wind ed una gravity alla quale abbassiamo il valore a 0,6 che consentirà la ricaduta delle particles che tenderanno ad andare verso l'alto causa del bouncer del deflector torniamo un secondo indietro ed alziamo il valore del collision spawn in modo tale che ci siano molte più particles nel secondo evento variamo il moltiplicatore alla voce offspring di quanto meglio crediamo per il nostro esempio un valore come 50 va più che bene notiamo che abbiamo tante particelle che vanno al di sotto del nostro deflettore questa è una situazione che può capitare molte volte e spesso si può risolvere con alcuni semplici stratagemmi dalla versione 2011 è stato introdotto l'operator group ma di esso parleremo prossimamente aggiungiamo invece un test collision il quale sarà associato al già presente deflector notiamo che le particles non sono più presenti sotto ad esso ma rimbalzano il nostro intento invece è quello di fermarle in modo tale che ricreino quello che succede nella realtà cioè il fatto che l'acqua colpendo una qualsiasi superficie una parte rimbalzi data la forza sprigionata durante l'impatto ed un'altra compresa quella rimbalzata si fermi bagnando la superficie stessa quindi creiamo un ultimo evento nel quale sarà presente un operatore stop creverà il ruolo di azzerare sia la posizione che la rotazione delle stesse vi ricordo che tale operatore è disponibile dalla versione di 3DX Max 2014 e o con i freebies della Orbitz Technology in alternativa possiamo utilizzare un operatore speed con i valori pari a zero grazie 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 a tutti.